Buongiorno, parliamo oggi di come ottenere un profilo antimetrico corosa e estremamente semplice con le mappe digitali. Lo stesso processo era possibilissimo anche con le mappe di privo tradizionale, ma essendo una cosa piuttosto lunga e toidiosa si tendeva a non fare, mentre le mappe digitali permettono di ottenerlo con un crit. Carichiamo quella che è la nostra mappa dell'escursione da Cervara fino a Montelaprugna, che abbiamo ottenuto tramite un file GPX all'andata, mentre sul ritorno è stata veramente disegnata ed è evidenziata con due colori diversi, in blu l'andata e in viola il ritorno. Per facilità le ho salvate sul mio account caltopo e quindi me le posso caricare ogni volta, cosa che vi consiglio di fare anche a voi. Evidenziamo il percorso e la data, clicchiamo sul destro e scegliamo l'opzione profile. Se il file è stato impostato correttamente, ecco il nostro profilo che possiamo seguire, mentre nella parte superiore si sposterà il puntino nella direzione in cui stiamo andando. Usiamo l'opzione expand per avere tutti i dati ed ecco che abbiamo questo magnifico profilo altimetrico che è senz'altro il migliore ottenibile al momento attuale tramite programmi di cartografia o di navigazione su terra. Vediamo in alto a sinistra tutti i vari valori, vediamo che il range va da 962 metri di altezza fino a 1784 e sono solamente questi rappresentati, cosa che permette di isolare la quota di altezza che ci interessa. Qui partiamo addirittura da un'altezza circa 1080 metri per raggiungere un punto più alto e successivamente la nostra meta sarà ad un'altezza inferiore alla partenza. Quindi il guadagno di quota sarà di 188 metri mentre la perdita di 301. Il sampling intervallo di campionamento non è un dato molto interessante per l'escursione, mentre importantissima è la vertical exaggeration, cioè la dilatazione verticale, nel nostro caso 6.3x, il che significa che le distanze nella scala verticale sono dilatate di un fattore 6,3, moltiplicate per 6,3. Questo perché altrimenti utilizzando la stessa scala delle lunghezze non si apprezzerebbe molto bene quello che è il valore verticale del cambiamento verticale. In basso troviamo una serie di grafici, il primo è un campionamento dell'altezza con una statistica non molto interessante, meglio è il grafico dello slope in cui si vede che è un percorso piuttosto semplice perché è spostato verso il verde, mentre le zone con una pendenza all'incirca pari a 30 gradi sono piuttosto ridotte. Una statistica di poco interesse sulla destra, mentre l'axpert, cioè la direzione prevalente del sentiero, è veramente di poco interesse, così come la copertura degli alberi. Ma andiamo a vedere lo stesso grafico per il ritorno, piuttosto diverso. Questa volta abbiamo usato il tasto sinistro, attiviamo sempre il profilo ed ecco che viene calcolata quello che è il nostro profilo altimetrico. Andiamo in questo caso ad andare a vedere l'opzione expand, la dilatazione verticale questa volta è di 3.4 che significa che i due grafici non sono direttamente comparabili a un livello quantitativo ma è esclusivamente qualitativo. Anche in questo caso sono presenti una serie di grafici di cui il più interessante è quello dello slope. Vedete come in questo caso il percorso è spostato sulla destra con una notevolissima percentuale all'incirca su un'inclinazione di 30 gradi, il che significa che in generale è più ripido. È possibile ottenere il pdf tramite questa opzione in alto a destra del nostro profilo di elevazione, cosa che io ho già fatto e aprendo i file con un qualsiasi programma di visualizzazione pdf, è possibile confrontarli tenendo presente che le due scale nel senso verticale sono diverse quindi non possono essere direttamente paragonati. Vi consiglio di utilizzare questa opzione perché semplice da ottenere e soprattutto importante per valutare la difficoltà di un percorso e ottenere informazioni sul profilo antimetrico sono riportate nel mio libro Never Lost, Mai Perdersi, i cui riferimenti sono in descrizione. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo video.